Calato il sipario sul format targato tele-regione l'estate del pallone. Un appuntamento che per due settimane ogni giorno dal 24 luglio al 4 agosto a partire dalle ore 21 aggiornato i supporters sulle novità del mondo calcio. Magliati i contatti, analizzate le formazioni delle differenti compagini seguita l'importante fase di preparazione atletico-tattica dei sudalizi del nostro territorio che step by step si apprestano a vivere una prossima stagione calcistica da protagonisti. Una finestra sullo sport preferito dal popolo del bel paese con interviste ai principali attori. La telecamera di tele-regione ha così seguito anche con contributi filmati le fasi più interessanti che conducono all'allestimento in una squadra in questa febbrile estate del pallone. A guidare il pubblico a casa in un meraviglioso viaggio sportivo Marcello Mancino in tandem con Diego Marzulli e poi ad alternarsi sulla poltrona in diretta differenti innesti di qualità. Un appuntamento in prima serata che come sempre ha dato ampio spazio alle opinioni degli amici a casa che grazie alla voce della bella Laura Daphne Pellegrino si sono resi protagonisti e poi successo anche in diretta su facebook e youtube. Spenti riflettori del fresco ed estivo format l'estate del pallone ora tele-regione in pieno fermento con tante novità in cantiere perché si sa il calcio fa bene alla salute.